Signora, è il momento di cambiare casa. Mister Grey, è una follia. No, è coloreria. Coloralino e cotone, direttamente lavatrici. Basta aggiungere nel cestello colorante, fissatore e il sale. Oh yes! Come un lavaggio, però colora. Coloreria italiana, cambia colore alla tua vita. Ah, dimenticavo. Se il bianco del bucato non ti rende felice, aggiungi sale smacchia nella tua lavatrice. Grey, ottimo direi. Grazie.